Scusa ma cosa stai facendo? Scaldo prima di allenarmi, non si fa così Quanto ti scaldi in questo modo? Un quarto dura 20 minuti e poi 20 minuti di pesi Ogni anno peggioro fisicamente ma non mi serve il personal trainer perché tanto i programmi me li faccio da solo Hai bevuto almeno 2 litri di acqua oggi? Sprizze e prosecco valgono nel conteggio? A cosa serve allenarsi se puoi andare in sauna a perdere chili sudando? Non prendo tutta quella roba chimica tipo proteina, aminoacidi perché uno fanno male i reni E poi tutta roba chimica che mi fa sicuramente male